Però vi richiamo ad un altro aspetto, avrete notato che noi abbiamo parlato di acqua, abbiamo parlato di campo, acqua, campo, dell'acqua abbiamo visto delle forme, dell'acqua abbiamo visto delle forme, dei campi, abbiamo parlato un attimo, abbiamo detto ok, c'è questa risonanza, ma io sono andato abbastanza veloce anche sui domini di coerenza perché poi alla fine sia gli studi di Masaru Emoto sia gli studi di Luc Montagnier ci hanno lasciato delle esperienze importanti, abbiamo delle belle foto, ma dal punto di vista scientifico e misurabile c'è molto di più. Però per fare questo ci vuole uno competente in materia, cioè ci vuole uno che di fisica, insomma, che sappia abbastanza. E quindi a questo punto io vi dico che la persona giusta è quello lì, seduto in seconda fila con un microfono, che mi guardava, ogni tanto annuiva, ogni tanto sbarrava gli occhi. Sì perché devo farti un po' di appuntini. E allora vieni su, vieni a farmene, va, facciamoci l'insieme, siamo in famiglia. Sul palco sta salendo Paolo Renati, PhD dottore di ricerca in fisica di sistemi complessi, specializzato in elettrodinamica quantistica nella materia vivente, studioso delle basi fisica della semantica in biologia e delle relazioni causali tra percezione biologica e fisiologia. Tiene corsi sulla base fisica della percezione nel vivente, sulle basi quanto elettrodinamiche della materia biologica e sull'acqua. Sono corsi dedicati a professionisti della salute, sia medici che ogni altra figura. A breve ci sarà anche un corso per biocostellatori. Sta inoltre per uscire un suo libro dal titolo Miss Incoscienza ancora gravida? Una critica alla ibris tecnocratica e transumanistica della biologia sintetica. Per Nexus Edizioni, Paolo Renati Grazie Per me è sempre una sorpresa Paolo parlare con te perché hai tante cose da insegnarmi, quindi sono qui ad ascoltarti. Viceversa comunque, per carità, perché io sulla pratica, giustamente tu dici che c'è tanta teoria. Ecco, io sono un topo di teoria probabilmente. Tu invece riesci a trasportare sulla pratica queste cose che è un passo necessario e fondamentale. Quello che vorrei fare, partendo dagli spunti utilissimi che hai dato, è fare magari anche qualche precisazione. Posso, se non ti offendi, Assolutamente Posso, come dire, credo che sia una cosa importante che da puntualizzare sia questa. Natale ha parlato giustissimamente di percezione, di campi, però ha continuato a mantenere un paradigma dualista. Cioè lui ha parlato di informazione, di vuoto, di campi, di, in qualche maniera, mente, spirito, anima. E qui sono tutte le definizioni, queste che io vorrei abbandonare, perché se non usciamo da Cartesia non ce la caviamo più. E credo che le cinque leggi biologiche siano un punto veramente importante per fare questo cambio di paradigma, perché secondo me, nonostante tutto il già antecedente filone sullo stress, che era già iniziato alla fine dell'Ottocento, solo Hammer è il primo che è riuscito a ricucire l'insanabile dualismo mente-corpo. Quello che cercherò di farvi vedere è che non esiste di fatto nessuna materia di per sé, se non come appareglie di densità data da configurarsi di questi campi. Quello che voglio cercare di dire è che non ci sono gli atomi e i campi, la mente e il corpo. Ci sono il mare e i ripples del mare, le onde del mare, quelli che emergono come configurazioni che se durano per un po', possiamo chiamare in qualche modo corpuscoli materiali, particelle. E così potremmo dire che il corpo è mente cristallizzata, cioè è mente che si configura, è semantica che si invera come materia. Questo è quello che dobbiamo cominciare a capire. Tu sei d'accordo su questo? Scusa se ti ho fatto questa presenza, ma lo dico per loro perché dobbiamo portare fuori questa cosa. Sì, quando dicevo siamo grovigli di energie e di informazioni, che a tratti acquisiscono una forma, attraverso le regole, è di questo che si parlava. E sono d'accordissimo. Ne abbiamo parlato io e Paolo di questo, ed è un aspetto interessantissimo. Chiaramente noi dobbiamo utilizzare degli strumenti concreti per comunicare alcuni aspetti. Però questa visione è una visione che mi appartiene assolutamente. Come? Abbiamo parlato di questo e ieri abbiamo condiviso questo aspetto, il che mi è piaciuto tanto. Io ho ritenuto le cinque le biologiche che è l'ultimo baluardo di un vecchio paradigma. Voi direte, ma che caspita sta dicendo questo qui? Sì, perché abbiamo necessità di un altro paradigma. Un altro paradigma nel quale queste cinque leggi biologiche siano la base inconfutabile su cui costruire un nuovo pensiero. E su questo tu immagino sia d'accordo. Assolutamente. Non so se direi come te che fanno parte del vecchio, però ti lascio questa libertà. Perché vecchio e nuovo non esistono. Dobbiamo partire da questo principio, ce lo siamo detti adesso, no? Sì, sì. Vecchio e nuovo non esistono. Dobbiamo partire da questo principio e da ciò che abbiamo capito, compreso, studiato e quello che adesso stiamo in qualche modo conoscendo per costruire un viatico, un nuovo percorso, una nuova realtà. E per fare questo dobbiamo abbandonare tante credenze che posti da abbandonare, giusto, no? Sì. E mi piace questo aspetto perché abbiamo condiviso questa cosa dell'abbandonare queste vecchie convinzioni. Tra l'altro, secondo me, un'altra cosa importante che oggi non ci sarà il tempo di approfondire, questi sono aspetti che poi vanno più addentrati in una sede didattica con la giusta apposatezza e il giusto soffermarsi. Ma anche un'altra cosa che ha un altro tipo di termine che mi piace svecchiare quando viene riferito al vivente è la parola informazione. Cioè, dovremmo passare da questo termine che di fatto allude sempre sostanzialmente a una sorta di fluido magico in un locale che si sposta da qua a là a un'altra cosa che è configurazione. Vedete, voi avete delle sedie in questa sala, no? che hanno una disposizione e con la loro disposizione io potrei rappresentare un qualche significato, per esempio anche una forma o un codice che ci scrivo con la forma delle sedie. Se io cambio questa configurazione esposto delle sedie e quindi passo dalla configurazione 1 alla configurazione 2 non c'è nessuna informazione che è andata da un lì a un qui o viceversa è immanente l'informazione al sistema e cioè il come e il cosa non sono scendibili ecco e quindi questo punto guardate che questo è un punto centrale per capire perché la percezione è come dire fisiologia perché se no staremmo parlando di aria fritta non so se sei d'accordo assolutamente ne abbiamo parlato è così è così quindi io credo che tu possa in qualche modo approfondire alcuni aspetti se la persona è ideale per fare questo ci proviamo ci proviamo per quello che è il tempo concesso e quindi io lascio il palco io ringrazio Natale per la sua grande umiltà grazie che non mi hai mandato a quel paese scusa Paolo Senati